Amici della Brotherhood Italian Gaming, bentornati in un episodio dove Vernizzi come al solito non si fa mai li cazzi sua nel terzo episodio di Enzo of Iron 4 e il bellissimo impero bizantino molto viola, molto baffuto, molto bello, poco Vernizzi signori andiamo a salutare quelli che insieme a me stanno portando a termine un'impresa che dire gloriosa che dire straordinaria, che dire affascinante è voglia di estate, c'è voglia di mare, c'è tanta voglia di impero bizantino e andiamo a salutare subito Vernizzi così la smette di romper i coglioni buonasera ciao che saluto di merda veramente ho un gelato mi viene voglia di picchiarti quando fai così demente usciamo via da questo ufficio di merda e andiamo a salutare il signor Flak, buonasera ciao, buonasera, bentornati in questo nuovo episodio sì, grazie grazie della intro, molto gentile grazie della intro, andiamo a salutare il bell'uomo dell'attila, buonasera dottore ciao no, niente, non è più un gran consiglio ministeriale, è un gran consiglio dei matti e andiamo a salutare il dottor Backfield, buonasera dottor Backfield buonasera, buonasera che lei mantiene la sobrietà, la sobrietà, la sobrietà, la sobrietà Beri e il dottor San Michele fini economisti, noi vi vogliamo bene anche se Bernizi appende manifesti in giro per la città insultandovi detto questo detto questo ci eravamo lasciati nell'episodio 2 con innanzitutto la formazione dell'impero bizantino dei baffi straordinari del dottor Cosmidis e una guerra in Romania con un ingresso in fazione bulgaro che ci ha permesso di sfondare il fronte rumeno e passare il fiume detto questo chi è che sta indicando? che cazzo è? cosa vuole? è Bernizi questo perché è vero, ero io però con voi l'ho mai fatto niente è molesto e quindi tutte le cose moleste le fa lei non è che ci vuole in giro se prendi questi qua dopo ti si ricollega a Bucharest la linea di rifornimento eh ma io no io sto facendo sto facendo sto facendo un assalto da questa parte così nei sacchetto perché se prendo il punto le sposto indietro me le devo sempre combattere se le insacchetti invece semplifichi va bene signore qua le tattiche di sacchettamento del dottor Flak sono straordinarie è che sei sentato i rifornimenti in questa zona eh aspettano lì non c'è problema sono fermi signori io direi che possiamo far partire il tempo e andare a chiudere questa guerra con la Romania il più fretta possibile perché qua il signoratti la moglie lancia giù il tofu che così hanno da mangiare il tofu non è il formaggio greco il tofu signor Flak non è il formaggio greco quella è la fetta non è il tofu è la fetta accetterebbe adesso la Germania molto bene la Germania accetta vai request l'enlise hai visto alla fine ha fatto quello che ho detto io sì ma l'ho insacchettata tu l'hai spiegato male una una divisione capirai si ma l'ha fatto un po' più avanti rispetto a quello si si vabbè vabbè ma guardi signore vabbè me ne ricorderò andiamo subito io sarò a giudicare la mostra amica faccio crimine di guerra come lei che corra su Kluge ho chiuso con la sacchetta io ho sentito distintamente i suoi o i suoi fedeli qua purtroppo al che non ha fatto nulla per buttarli fuori dal governo i suoi fedeli ma io sono circondato la versione splendide come me no proprio il contrario di lei cioè proprio persone opposte alla sua persona che è successo è molto lontano in questo momento da lui si stava dietro non mi fai selezionare oh è qualcuno non stava dietro ah stavo osservando intanto signore baffone di gara guerra alla Finlandia la Polonia è andata e fra un po' credo che ci saluterà anche la Francia ma adesso è finita la lega delle azioni ma le mortacci vostri utili veramente utili come la carta igienica in India siete utili come l'onu oggi qua al fronte lasciamo lo abbiamo intanto in cojoniti garati signori manca poco manca poco manca poco avanti avanti tutta avanti tutta signori avanti tutta avanti tutta ma io andai con più calma no andai avanti con tre quarti tipo l'islanda invece si fa calza i suoi oh mi continuano a inculare gli sdotti di ricerca è una roba incredibile ce la faccio oh mamma mia che avi di tau e il belgio ci saluta siamo in piena seconda guerra mondiale e noi stiamo marciando verso Kluge vai che l'imperatore vuole vai verso Kluge vai 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 Kluge eh qua continuano i fichi fichi vai stanno prendendo le ordinazioni via Dax 3 tavolo 7 no non faceva è vagamente razzista come no è la razzista era madonna allora allora 34% devono stare sotto al 20 signor flac si inventi una magia una magia bulgara tra l'altro quanto c'ha di partecipazione a bulgaria 7% tipo non ti lascio neanche neanche ma neanche beh sì do perugia si la lascio è l'unico claim tanto dopo li invadiamo ci ritorna però abbassa voce signori capito bulgaro ti rimane niente dopo non ci fidiamo di chi accetta un'alleanza per invadere il vicino scemi a beccatista sacca buio gulosa 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 la manca 8% dai che manca un cazzo su ricordi eccola la bizantin temata eccola la bizantin temata ok signor flac è matto signor flac signor attila e signor vermi dovete dire che strade volete prendere io quella per andare verso casa non mi dispiacerebbe quindi licenziato c'è fatta una certa insomma è anche tardi fai stanco poi mi dovrei dire che strada volete prendere aspetta aspetta mi è arrivato un vocale da churchill faceva più o meno così bravi bravi tutti via testa roba è solo quello è perché c'è tutti la bessa rabbia questione bessa rabbia prendila poi la cediamo se ce la chiede gentilmente esce l'evento poi a noi si 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 e anche tutta la marina è presa la grande marina rumena fa vedere queste special beh devo dire devo dire che adesso è molto 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 meglio intanto baffetto è a Parigi così ciao a voi ciao a voi a godersi una merenda allora signori the bizantintemata dobbiamo trionfare nei balcani dobbiamo avere Albania aspetta si sta dichiarando guerra la russia o un focus per la pesta rabbia è la russia si è la best sta proprio giustificando sta proprio giustificando è lei perché ah ready gli avevamo detto aspetta mondavia che cosa libera la best rabbia si non si può liberare release nation release nation eccoci eccoci problema tu giustifica sto cazzo problema tuo is not my problem fate tutte la transinistra che volete non è un mio problema ok allora dicevamo signori dopo aver cambiato un attimino i confini dell'impero abbiamo il temata che ci dobbiamo trionfare nei balcani quindi dobbiamo controllare iugoslavia bulgaria romania albania e montenegro e quindi dovremo comunque fare a botte con i russi poi dobbiamo trionfare in italia perché dobbiamo controllare l'italia dobbiamo trionfare nel levante prendere l'eleppo il libano damasco la siria il sinai la palestina e tutto ciò che c'è di bello nel mondo e trionfare anche nell'egitto che cazzo state facendo chi stiamo giustificando stiamo giustificando la bulgaria ci ha traditi la bulgaria ma non è vero non ci ha traditi la bulgaria è vero è vero l'ha detto sul giornale anch'io non è mai vera sta roba hai detto che le foglie di vite chi le usa per cucinare è una banda di kamikaze e allora allora guerra male e allora guerra male ma siamo in free trade non è che si può così in free trade fascisti liberali andiamo in export o in limited ma in export intanto è la madonna autarchico non abbiamo neanche i soldi per piangere va bene abbiamo guadagnato un po' di fabbrichette e stiamo producendo dei camion vecchi e questo non fa bene all'economia invece cosa fa bene? alla gola allora signor Flak cosa vuole fare? the backbone of the army o legacy of war o meglio cosa vuole abbracciare la modernità o the new weapons all the tricks artiglieria o carri? io la prima non ho capito giustificano ancora quei cani the bone così per la bucovina sicuro per la bucovina è la bucovina è il primo lì allora fai the backbone of the army caccia la bucovina fuori ed eccoci qua bucovina andata bucovina vai the backbone of the army signori abbracciamo il futuro abbracciamo il futuro i famosi carri pizzantini stanno per prendere il largo ed eccolo qua l'inter world tank development andiamo anche andiamo contro la serbia anche? la la Jugoslavia la Serbia certo che andiamo anche contro la Jugoslavia e ci tocca e ci tocca per forza non possiamo fare altrimenti è bello che questi qua i nostri vicini potrebbero anche essere invitati in frazione non capisco perché dobbiamo triunfare nei Balcani dobbiamo triunfare in Italia chi è? invita in frazione ah la Jugoslavia vuole entrare in frazione vorrebbe entrare in frazione ah e anche B e C come stiamo cosa stiamo ricercando? carri come eri signor Attila come siamo messi? al momento bene dopo no dobbiamo fare gli improved dobbiamo fare gli improved signori è finita la gestificazione siamo pronti? va di dichiarire guerra che lo fa in maniera più più ufficiale deve essere rapido deve essere rapido pronto? ma si muoviti però cazzo tu prima di cese da nord non attacchiamo? eh no perché oh no c'è un fronte scoperto vai spiegagli da tu che sei bravo questa la tattica flac li illude di poter avanzare da qualche parte e poi rinculata dietro classica tattica flac questa è una Kansas City Shuffle in chiave tirolese sì sì sicuramente è la Trento City Shuffle la guerra delle tre ore questa è stata non ha la marina ma non ha neanche la marina che vergogna c'è gli occhi per piangere questo che vergogna allora vediamo l'Ucraina però non si stanno beccando le giustificazioni della questa è una truffa comunque cioè solo su De Nui si stanno giustificando questo pezzo di fango né Moldavia né Ucraina si stanno prendendo le giustificazioni del russo sta sul caso se ce l'abbiamo a noi sì io mi lamenterei a questo punto io mi lamenterei comunque la guerra in Russia è necessaria obbligatoria a questo punto direi assolutamente obbligatoria signori la Jugoslavia finisce la giustifica il 3 luglio siamo al 4 di aprile sono garantiti da nessuno no nessuno ne rompe i coglioni molto bene no è anche in una lineata qui non dovrebbe fare le palle signor Attila lei cosa vuole fare destroying our foes or protecting our sky prima sembra più divertente allora distruggiamo mentre signor Vernizi scrap the greco-turkish novel or modern navy modern navy strategic butterfield scherzavo l'altro scherzava molto bene era un burlone sì un burlone the black bone eccolo e ossa nere mi stai sudando intieme a me? mamma te non hai un'idea bene bene mi fa bene edimo quasi quasi guarda sono quasi fra poco tolgo anche il maglione perché sono qua io già ma io sto proprio nudo direi si mette a nudo Vernizi no 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 mettiti a nudo raccontaci di te e c'è il condizionatore che potrei accendere la tua è la forza di volontà ma lo sto facendo per te anche io lo spendo siamo tutti con comunque signor Flak qua abbiamo anche l'ellenic academy battle che ci dà degli ottimi bonus quando dovremo andare in guerra contro russi britannici francesi italiani e tedeschi eh oppure mi piace il pozzo eh 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 fraganza le piace potrei anche togliermi l'obbio del balena sentite sti cazzo dei debiti che vogliamo fare vogliamo ma si ma chi è che ha mai pagato i propri debiti ma che malusso ci dà il debito eh ci dà il 20% di di consumer goods comunque no no comunque guarda che i debiti ce li aveva la Grecia noi siamo bisagli esatto mamma mia ragione sociale allora possiamo fare restructuring in your in your debiti debiti o illegali default on your debt fanno un cazzo a tutti si chiama si chiama finanza creativa facciamo un finto default eh dai facciamo un finto default mi piace l'idea siamo abbastanza non so la vita non so cosa comporta non so se c'è del caos può essere che scoppia il caos assolutamente probabile noi stiamo andando a due signor flac io non so che programmi ha lei per la serata però capito un cazzo stichi fichi coi treni siamo rientrati coi treni siamo rientrati beh molto bello io ho flac lei che dice paghiamo facciamo illegalmente default per sanare i nostri debiti o ristrutturiamo il nostro debito è chiaro chi dice lui poi illegalmente chi è che lo decide se è illegale scusi ho chiesto a lei signor venizio adesso lo chiedo anche al signor flac e lo chiedo anche al dottor atti e lo chiedo anche al dottor backfield perché così adesso lo chiediamo anche al piscine facciamo le cose illegali se no non siamo noi perfetto bravo fino alle cose fatte bene perfetto adesso giustifico anche contro l'italia no non serve fra poco arrivano loro infatti alleato del tedesco pallista di chita pallista di chita allora signor flac la guerra la guerra in Jugoslavia deve essere rapida bella e soprattutto rosa rosa si queste se non le piace cambi l'impero ma perché se sono liberate democratiche l'Ucraina non lo so se le liberi vengono democratiche non mi chiedere perché il gioco predilige però intanto l'Ucraina sta diventando comunista e la Moldavia pure 125 giorni per sti poracci qua ah 5 giorni ma per cosa per invadere da Ugo ah si 5 giorni per la di uno slide vabbè voleva dirlo lei potrebbe dirlo lei manca poco eccola eccola qua siamo pronti vai quando vuoi si assolutamente siamo pronti certo signore il 3 luglio del 1940 ci andiamo a riprendere il cazzo di balcanico mondo schittifite schittifite vai schittifite palesemente ha detto fichi fichi no ha detto schittifite eh qui dice etimos allora Flak la guerra la sta facendo veloce si la sta facendo bella poco rosa in realtà però rosa non ce la fanno questi ma chi ai soldati hanno detto no preferiremo lilla uno merito verde la rosa non mi piace il giallo nel mio esercito sono in democrazia innanzitutto ma in che film nel mio esercito di che cazzate si fanno sacche migliori in democrazia nel mulino che vorrei belisario e sasha gray prego che poeta che fine ma anche figlio goku hai visto quello lì questo che si stava perché è un affamore importante ma veramente si è letteralmente teletrasportato lì si combatte a belgrado e come al solido vernici non sta facendo niente sbadiglia sbadiglia mentre l'esercito avanza sono stanco è lì sullo yacht che guarda la guerra da lontano ma io sono un uomo vecchio non mi potete trattare male un uomo onesto è onesto o vecchio? vecchio detto ma sei un uomo vecchio o un uomo sono un vecio un vecio un po' di dialetto ah la Svezia vuole ah la Svezia ah la Svezia vuole sì dai tradiamo con la Grecia sì con la Grecia con la Svezia eh? me so capito io lei non si preoccupi lei pensa a prendere Belgrado l'importante è che si è capito ho pensato bravo quindi Sacca Sacca a sud Sacca a nord Belgrado è presa e la Jugoslavia è al 50% alla capo di erozione adesso ha spostato la capitale a Split cosa è successo l'Albanians? l'Albania è diventata protettorato italiana no è di nuovo Albania no è protettorato italiana è protettorato italiana ma è Berlusconi non è Berlusconi sì è lui è il padre di Berlusconi è il padre di Berlusconi propongo di invadere il Tartor Reich così lo dice l'importante nella vita è avere delle grandi ambizioni vabbè sono stato deriso da stifelloni ma abbiamo l'artiglieria nella cavalleria io la toglierei visto che si sta facendo una military police no serve quella un bel 150 obice se ci sono paesini a cercare l'artigiano con l'erbice certo ma adesso cosa è un crimine di guerra a sparare così a vista ci serve sul campo di battaglia non nei paesini a cercare di più niente il signor Flak fa sacche pure coi sandali io io ricordo che sull'antistasi con arma 3 ci tiravano con l'artiglieria a un certo punto bravo comandante ci hanno preso un'antenna radio fate uscire la divisione pesante erano i king tiger cazzo ah ok paracadunisti Moldavia e Ucraina non esistono più adesso confiniamo con mamma Russia l'Italia adesso ci ritiene signori l'Italia sta giustificando contro di noi signor Flak qui c'è no fammi finire prima cazzo abbiamo in fronte eh 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 che eh eh fate presto fate presto titolo de merda montagna non c'ho gli alpini tirolesi mercenari squadra guardia varangia tirolese guardia varana squadra arancia corra split mi tolgo il maglione ormai signor Berlì tolto il maglione occhio perché fra poi dovrà fare conti con la marina italiana se non è stata se non è stata defraudata da quella inglese il mio augurio è quello ma secondo me vabbè ma l'ho preso pure la marina turca adesso dovrebbe avere una signora marina guardi che bello guardi che bello non ho sentito un grazie tra l'altro esatto infatti grazie mille proprio alla faccia ho capito potevamo dargli anche un calcio nel culo però non l'abbiamo fatto quello lo fai sempre tutte le volte che vi vedi pazzesca c'è nel culo signor flac che corri se non l'unico slavia in trefazione con l'italia ci abbiamo tutto come una serie i bordelli eh qua l'interno del merda sta andando sta andando dai ma non è no attiva no faccia presto faccia presto signor flac faccia presto corra il luviano è presa dai oh un per cento l'un per cento l'un per cento si ricordi che è un gioco paradox lui lo sa lui lo sa lui lo sa prendo bancia luca che bello ora non è che è migliorata la situazione no non è migliorata manco del cazzo ora sono stato cuscinetto creiamo vilmente degli stati cuscinetto si Slovenia eh ma si Slovenia e Dalmazia esatto pura Croazia Dalmazia si si ma dopo le ripigliamo quindi vuole combattere vuole combattere fino all'ultimo per il massimo entriamo negli alleati niente è finita è finita la serie si io combatto io non voglio stare in cuscinetto io voglio combattere si combatte fino alla fine eh ma c'è anche l'Ungheria c'è anche l'Ungheria dopo eh allora è finita è finita è lungo il fronte ti lascia i cuscini dai poi dopo è lungo il fronte stiamo per perdere la serie anche questa partita tuo culo è una serie piglia tutto se la senti tenere questo fronte lunghissimo la vittoria è nostra grande sono con lei intanto prendiamo tutta la marina di Guoslava va bene allora io al processo io non c'entravo niente non sapevo nulla è pronto signor Flacca sappiamo tutto sì vai cazzo io ero fortemente contrario vi spieghi subito le truppe vi spieghi subito le truppe devi produrre pure qualche antiaerea eh andiamo a ricercarle antiaerea va ecco ti pareva che mi hanno già un culo per lo slot puoi ridere signor Attila eh adesso adesso entriamo nell'asse ma che è sto colpo di scena adesso cos'è sto colpo di scena ma non si può cos'è sto colpo di scena ci prendiamo ci prendiamo ah cazzo eh no è del tedesco cosa è del tedesco ma noi ce la dobbiamo prendere bici de merda aspettiamo che lo prendano i francesi e scendiamo se entriamo ah è bici ok ok ah perché lei vuole farsi la campagna d'Africa entrando nell'asse mamma mia l'impero più opportunista della storia stiamo facendo delle merde cacate signor Flacco stasera è veramente però però sì abbiamo il russo però vabbè mica dobbiamo andare in guerra con il russo non ci chiede più altro in teoria no 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 non ci chiede più altro senta io sto triplo salto carpiato lei a me le canzasse di shuffle piacciono facciamo l'impero più infame della storia signori il 28 ottobre tra l'altro data anche storica del 1940 l'impero bizantino entra nell'asse signor Vernizzi deve proteggere questo schioppo di mare che ci ha dalla marina britannica e noi secondo me potremmo anche cercare di oltrepassare i bici france per fare degli sbarchi perché la france e bici secondo me entra in guerra tra tanto tempo dobbiamo prendere anche l'irac no l'irac no dobbiamo prendere dobbiamo prendere lo vuoi prendere? te lo regalo? vuoi che te lo regalo? se me lo regalo mi fa piacere comunque dobbiamo prendere cifro giordania palestina sinai dodicaneso damasco libano dirazzo allora l'irac se non lo vuole lo regalo ad Attila no ad Attila a te ti regalo a te ti regalo cifro ma che palle voglio l'irac ask join infection siamo pronti? vai eccoci qua voglio andare in giro vestito da scicco ma lei intanto è in giro vestito da imbecille signori l'impero bizantino nonché l'impero più infame della storia è appena entrato nell'asse ma comunque la guerra in Russia la farei oppure ne vuole approfittare perché quando il cruco vuole fare talmente merda che quando il cruco entra in guerra contro la Russia noi non ci entriamo usciamo fuori dalla fazione e lo inculiamo da dietro deve essere bello entriamo nella fazione del Russo esatto no purtroppo non potremmo farlo effettivamente sarebbe nostro interesse assicurarci il Mar Nero sarebbe nostro interesse assicurarci il Mar Nero io sono perfettamente d'accordo con lei va bene vedremo i sviluppi vedremo i prossimi sviluppi signori ma tutto questo lo vedremo nel quarto episodio dell'impero più infame della storia l'impero bizantino signori dalla Brodery Dallengaming del Gran Consiglio tutto ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti